ciao ragazzi stamattina sono qui in compagnia di turman che non so se riesco a inquadrarlo e qui che anche lui vuol sentire un po il discorso che vi voglio fare perché vi vorrei parlare praticamente di quali sono gli accorgimenti e se vogliamo un po i segreti per migliorare le prestazioni del vostro cane da guardia allora guardate al di là del fatto che ovviamente deve avere una certa predisposizione ma ricordate la predisposizione non è tutta io ho conosciuto tanti cani nati mediocri ma gestiti bene che si sono poi verificati in maturità degli ottimi guardiani così come ho visto dei cani assolutamente portati per questo tipo di lavoro ad affievolire il loro carattere gradatamente proprio perché la gestione non è mai stata appropriata io ho un amico di londra che collabora anche con me ha acquistato parecchi cani da me poi ha fatto cucciolate le ha venduta degli inglesi e mi dice sempre Ezio guarda io un lavoro che non vorrei mai fare è il tuo perché tu puoi dare anche degli ottimi cani ma se poi i clienti non ti ascoltano su come deve essere la gestione su come deve essere fatto come dire come deve essere impostato il rapporto cane padrone cane ambiente finisce che non si ottengono i risultati che le persone immaginavano e poi da sempre colpa all'allevatore questo è vero solo in parte perché se poi il cane ha un buon carattere nel tempo viene fuori ma può esserci grande differenza sia di come si va ad ottimizzare il carattere di un cane forte ma sia come si può possono migliorare di tanto le prestazioni di un cane mediocre allora guardate la prima cosa che voi dovete osservare e mai e ripeto mai lasciate il vostro cane da solo voi dovete partire dal presupposto che gli unici due veri obiettivi di vita del cane sono sopravvivere per riprodursi e questi due suoi istinti questi due suoi obiettivi come li ho chiamati sono senza dubbi dei catalizzatori importanti per la guardia che lui farà nella vostra proprietà per cosa riguarda la sopravvivenza voi ci pensate di fornite il cibo va dato un cibo buono un cibo che sia importante per il cane un cibo che lui veda nella sua sopravvivenza delle certezze per cosa si riguarda invece la riproduzione è importantissimo che lui possa almeno sperare nella vita di poter soddisfare questo istinto se no che cosa accade accade che i cani nel tempo iniziano a deprimersi perché i cani sono animali da branco e devono assolutissimamente vivere con altri soggetti ma attenzione però altri soggetti non significa soggetti dello stesso sesso perché mi viene più comodo la cosa addirittura per ottenere delle ottime prestazioni dei cani da guardia un maschio va sempre messo una femmina ed è importantissimo che non siano sterilizzati nel maschio nella femmina perché sennò casca l'asino cioè i cani non è che sono stupidi se vuoi sterilizzate la femmina per semplificare il vostro percorso togliervi tutta una serie di erogne dei dei calori ovviamente il cani immediatamente capiscono questa cosa non vedono la speranza di realizzarsi in questo loro istinto e si attaccano molto meno al territorio quindi il territorio che dovrebbero custodire diventa un territorio dal quale loro in teoria se ne vogliono andare al più presto non un posto invece dove decidono di stanziarsi e decidono di proteggere quindi assolutissimamente importante che il cane non viva da solo che viva in coppia ma non con soggetti dello stesso sesso perché finisce di rimanere solo un concorrente al cibo ma non ha nessuna interesse per la riproduzione e nessuno dei due devono essere sterilizzati poi se a voi a un pastore dell'asia centrale maschio gli mettete una femmina di scizzo poco importa cioè nel senso non lo aiuterà nel lavoro il cane non sarà soddisfatto al cento per cento ma nello stesso tempo avrà una speranza di poter in qualche modo ottenere ciò che lui vuole cioè la possibilità di riprodursi ecco un'altra cosa estremamente importante è poter sempre utilizzare il sistema della scala gerarchia voi non potete immaginarvi che un cane praticamente come turman potrebbe fare la guardia se io all'inizio gli avessi messo una femmina magari molto più dominante di lui e non è detto assolutamente che il cane solo perché maschio debba essere un dominante nei confronti della femmina quindi è molto importante il compagno che andremo a mettere così come se noi abbiamo già un cane maschio che non fa la guardia bisogna mettere insieme solo particolari femmine se noi vogliamo che almeno lei possa soddisfarci nelle nostre esigenze e magari pian pianino coinvolgere anche il maschio portarlo al cancello e fargli fare non una gran guardia ma almeno una presenza quindi è uno dei primi chiamiamoli segreti sistemi per poter migliorare le prestazioni e quello che vi ho appena detto secondo importantissima la collocazione del cane e la recinzione non è che voi potete ad esempio prendere un ambiente chiuderlo tutto mettere il cane dentro come fosse in una scatola fargli vivere una vita di isolamento e sperare che quando qualcuno scavalca poi dopo un po' di anni il cane maturo non ha mai visto nulla non si è mai rapportato col mondo esterno e abbia poi questo coraggio di poter affrontare le strane ecco questa è una cosa impensabile che non potrà mai accadere quindi come va predisposta la recinzione assolutamente importante terza cosa importantissimo come viene cresciuto il cucciolo dai primi giorni che arriva a casa vostra voi sapete che molti rovinano il futuro del cane o perlomeno almeno i prossimi due anni di lavoro che potrebbe fare il cane con una gestione assolutamente sbagliata che fanno nei primi nei primi venti giorni quindi se è vero assolutamente che la genetica conta se no non avrei speso tutte queste parole sia sulla genetica ma specialmente sulla selezione conta saper individuare quale soggetto che può fare la guardia voi non vi rendete conto quando è importante poi adeguare un sistema esatto di gestione spero di avervi fatto cosa gradita nell'avervi svelato questi particolari vi auguro buona giornata e a presto ciao ragazzi